Torino-San Polla 2-2 al 93, ragazzi, in casa del Torino, ma che partita ragazzi, che partita, vediamo intanto i minuti di recupero, 3 minuti di recupero, quindi questo è l'ultimo minuti di recupero, ragazzi sono arrivato un po' troppo in ritardo per fare in post partita, comunque partita, finisce 2-2, combattuta un punto per ciascuno, che non so se non fa contenti nessuno, fa contenti entrambi, dobbiamo vedere la classifica momentanea con il Torino, che quindi guadagnando un punto andrebbe a 6, agganciando il Parma, esce più o meno dalla zona di retrocessione, ma ragazzi il Torino quest'anno sta facendo schifo, e la Sampdoria invece andrebbe a 11 punti, quindi pari con il Cagliari. Ragazzi, 94esimo siamo addirittura, cioè il Torino stava vincendo, era andato in vantaggio con il gol di Belotti al 25esimo minuto con assist di Singo, poi tutto nel secondo tempo, cioè il primo tempo finisce così 1-0, poi tutto nel secondo tempo rimontona della Sampdoria, che trova il gol con uno scatenato oggi Candreva al 54esimo, quindi portando il risultato sul pareggio, e poi al 63esimo, quindi 3 minuti dopo, e sì 3 scusate 9, quindi 9 minuti la Sampdoria è riuscita completamente a rivoltare la partita, con il gol di Fabio Quagliarella con assist di Antonio Candreva, e niente, poi il Torino l'ha ripresa al 77esimo con un mito con assist di Verdi. Andiamo a vedere un attimo le statistiche, 7 tiri a 3 per il Torino, Mizzega, con stesso palla, calci di punizione, calci d'angolo, rimasse laterali, parate, e beh, sembra che il Torino comunque abbia giocato meglio, magari è andata bene la Sampdoria. Vabbè ragazzi, comunque partita finita da circa 20 secondi, niente, lasciate un bel like al video, un bel iscrizione, un bel commento, attivate la campanina, e noi ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!